I meccanismi delle emozioni, i meccanismi della dolcezza, della tenerezza che nella musica vengono fuori in pieno, quindi speriamo di aver regalato un momentino così a tutti quelli che ci ascoltano. Assolutamente. Hai visto che ne hai parlato fra un po', appena torneremo in onda, un pezzettino magari in questa mezz'ora di questo dov'è che ci hai detto che sarebbe, ridatemi l'anima. Sì, che faceva, ripassiamola un secondo poi la facciamo meglio. Dov'è, 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 l'anima dov'è, la poesia dov'è, guardo ma non è, Cos'è, ridatemi l'anima che, che non so dov'è, non so più cos'è, non so più se c'è, dopo la facciamo meglio. Dopo la facciamo, la facciamo perché è un pezzo che a noi piace tanto e poi ci ricordiamo un'avventura in montagna che ricorderemo a Gatti. Che cantavamo dove è la macchina, perché eravamo in montagna e era nevicato così tanto che le macchine erano tutte coperte, quindi siamo usciti dalla discoteca dove è la macchina.